questa sera. Intanto buonasera a tutti, grazie per esservi collegati al sito grecoantico.it per seguire la presentazione del volume Euripide Eracle. Mi limito a una breve introduzione per presentare i relatori, il moderatore Luciano Lanzi e i due autori Gabriele Burzacchini e Marco Hercules. Luciano Lanzi è stato per molti anni docente di greco e latino nel triennio liceale, oggi terza, quarta e quinta liceo classico, nel liceo Ariosto Spallanzani, già liceo classico statale Ludovico Ariosto di Reggio Emilia. Luciano Lanzi è stato docente molto apprezzato dagli allievi e molto stimato dai colleghi, autore di antologie e manuali per i licei. Ma Luciano Lanzi è anche studioso che ha al suo attivo saggi e commenti scientifici. Tra tutti ricordo l'edizione con commento delle discussioni di Tuscolo di Cicerone, curata assieme con uno dei due autori di questa sera, ovvero Gabriele Burzacchini. Gabriele Burzacchini è stato docente ordinario di lingua e letteratura greca nell'Università di Parma, prima ancora straordinario nell'Università di Cagliari. La carriera precedente si è svolta invece nell'Università di Bologna. Gabriele Burzacchini è studioso di poesia greca arcaica, celebre un'antologia di lirici curata con Enzo De Gani, ma si occupa anche di tragedia e in generale di critica e commento a testi in poesia. Marco Ercolis è professore associato nell'Università di Bologna, dopo essere stato per un triennio ricercatore a tempo determinato di tipo B. Si è occupato di poesia arcaica, in particolare di Melica Corale e di Stesicoro, ed è su questo campo che ha iniziato e consolidato le sue competenze nel campo della metrica greca, una competenza che ora applica ad altri contesti, tra i quali, come nel caso di stasera, la tragedia. Io mi fermo qui, concludo questa breve prolusione col porgere i saluti della delegazione di Parma grecoantico.it dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, che ha patrocinato questa iniziativa. Collabora all'evento anche il Liceo Ariosto Spallanzani di Reggio Emilia. Ricordo che chi partecipa tramite YouTube può proporre le proprie considerazioni nei commenti. Lascio la parola ai relatori. Buona serata. Parto Roberto. Buonasera a tutti. Io sono Luciano Lanzi, dunque, e ho il compito di dialogare con i due curatori dell'edizione dell'ERACLE, con traduzione e appendice metrica. La traduzione, come già a vostro Anca, è del professor Burzacchini e l'appendice metrica del professor Ercolis. Quindi cominciamo con il professor Burzacchini, al quale io pongo questa domanda al termine di una piccola considerazione. Siamo di fronte ad un autore, Euripide, che è stato etichettato in modi spesso non solo diversi, ma divergenti e contrapposti. Si è visto in lui il campione del razionalismo greco e si è visto anche l'irrazionalista, si è visto in lui l'odiatore delle donne, ma anche il femminista. Si è visto in lui lo scopritore delle profondità dell'animo umano, ma si è visto in lui che sacrifica la psicologia alla retorica. Ecco, queste contraddizioni sono operanti ovviamente anche nell'ambito del giudizio che si dà di Euripide come poeta che, come tragediografo, affronta i miti e in quanto tale deve a che fare con le figure divine, figure divine che spesso sono determinanti appunto nella trama e che hanno dato luogo a diverse interpretazioni da parte degli studiosi, non solo di tragedie, ma di mondo greco in generale. Ecco, allora io ponevo al professor Buzacchini questa prima domanda. L'eracle pone problemi quanto all'interpretazione da darsi ad Euripide come uomo che si pone di fronte al divino e lo sente, lo interpreta. E se è così, quali sono i punti nei quali è più evidente quel che Euripide pensa e che comunque rappresenta della presenza della divinità nell'ambito dell'operare umano? Ecco, questa era la prima domanda che io ponevo al professor Buzacchini. Prego. Buon pomeriggio a tutti. In primo luogo desidero ringraziare il professor Roberto Rossi, ideatore del blog Greco Antico, che ha progettato questa presentazione. La professoressa Anica Nicolosi, per le sue parole di introduzione e per aver accolto l'iniziativa sotto legida della delegazione AICC di Parma, di cui è presidente. Il professor Marco Hercules, che ha curato con la rara competenza che gli è proprio all'utilissima appendice metrica. E infine il professor Luciano Lanzi, mio ex collega, a me legato da pluridecennale amicizia, che ha ben volentieri accettato il ruolo di intervistatore. Vengo alla domanda che Luciano mi hai posto. Chi legga una tragedia come l'Eracle, che contiene ripetute recriminazioni contro Zeus, il genitore divino che si è disinteressato della sorte del figlio. Una tragedia che inoltre è scandita da martellanti attacchi contro Hera, l'implacabile persecutrice dell'eroe nato dalla relazione adulterina di Zeus con Altmena, potrebbe essere indotto a ritenere Euripide un poeta religiosamente scettico o addirittura ateo. In realtà non è così. Contro l'idea di un presunto ateismo di Euripide ha scritto più volte una studiosa americana, Mary Lefkovic, dapprima in un paio di articoli, uno del 1987, Euripides and Atheist, era un ateo Euripide, e poi in un altro articolo su Classical Quarterly del 1989, in Piety and Atheism in Euripides Dramas, e più recentemente in un volume che non ho potuto mettere in bibliografia, eccolo qui, è uscito nel 2016, dove Euripides and the Gods, Euripide e gli dei, che è un volume in cui l'autrice ribadisce le sue convinzioni. La Lefkovic sostiene che gli dei di Euripide sono in fondo gli stessi di Omero, di Eschilo, di Sofocle, con quei limiti e difetti che un senofane già nel VI secolo non aveva esitato a denunciare. Le accuse di irreligiosità ad Euripide hanno origine soprattutto, dice la Lefkovic, dalle malignità dei comici, in particolare di Aristofane, accuse che ebbero certamente un'importanza, si pensi alla vicenda di Socrate. Sappiamo anche che Euripide era certamente influenzato dalle teorie radicali di Anasagora e dei sofisti e inoltre che fu pure implicato in processi di empietà. Il biografo satiro, III secolo a.C., scrive di un processo di empietà intentato da Cleone. È una notizia che da taluni studiosi è messa in dubbio. Un altro processo di empietà, secondo la testimonianza della retorica di Aristotele, gli fu intentato da un tal igienonte nel corso di una causa per antidosis. E infine abbiamo anche un papiro del III secolo d.C., che attesta un'esercitazione retorica sul tema di un processo di empietà contro Euripide per aver portato in scena alle Dionise l'era clepazzo. Da tutto ciò si deduce che l'anticonformismo provocatorio del poeta dava fastidio, ma non c'è alcuna prova reale di un suo ateismo. Potrei sintetizzare la risposta al quesito che Luciano mi ha posto nel modo seguente. Euripide denuncia frequentemente in maniera anche aggressiva e dissacrante le contraddizioni e le storture del mito e della religione tradizionale, sottoponendole ad una severa critica razionalistica, ma ciò non significa un rifiuto totale e irreversibile della sfera del divino. Voglio sgombrare subito il campo da un possibile equivoco. A proposito di una tragedia come le Baccanti, qualcuno parlò anche di un Euripide convertito al Dionisismo. Io non credo che questa sia una visione giusta dell'opera del poeta. Euripide avrà anche avvertito il fascido dell'invasamento bacchico celebrato nelle Baccanti. Ma l'orrore della conclusione del dramma compente o fatto a pezzi dalle donne di Tebe e con la madre Agava che ne issa la testa su una picca scambiandola per la testa di un leone, cosa che fa dire al poeta per bocca di cabo, agli dèi non si addice a equipararsi ai mortali nell'ira. Nessuna conversione al Dionisismo dunque, ma semmai la consapevolezza dei rischi di un abbandonarsi incondizionato a una fede irrazionalistica e trasgressiva. Piuttosto è da rilevare che in parecchie delle tragedie euripidee una conclusione in qualche modo positiva dell'intrico si deve al Deus ex machina o comunque all'agire di una divinità. Questo succede nello stesso Eracle quando dopo la strage perpetrata della sua famiglia la dea Atena stornisce l'eroe impazzito lanciandogli contro un masso. I casi sono molti, interventi di Tetide, di Atena, degli Oscuri, di Apollo eccetera. Un euripide ateo non avrebbe potuto accettare di conferire funzioni così determinanti a divinità dell'Olimpo tradizionale. Soprattutto, e con questo concludo la mia risposta, dobbiamo mettere in conto le parole dello stesso Eracle ai versi 1341-1346. Io però, per quanto riguarda gli dèi, di amori non leciti non ritengo si compiacciano, e che chiudano braccia in catene è cosa cui già mai prestai fede, né mai mi lascerò indurre a credere. Né che l'uno possa per sua natura essere padrone di un altro, giacché il Dio severamente è Dio non ha bisogno di nulla. Altro non sono questi che useranno i racconti di poeti. Questi versi possono apparire in contraddizione con l'impianto di questa tragedia, ma la contraddizione è solo apparente, è un messaggio che Euripide vuole far pervenire al suo pubblico. Queste parole, messe in bocca all'eroe, travolto dalla sventura, dimostrano il vero e ultimo sentire del poeta sugli dèi. La polemica pur aspra contro i miti, le leggende, le aberrazioni della religione tradizionale, tradisce alla fin fine il bisogno, se si vuole, la nostalgia di una fede depurata, quantomeno non inquinata da stolide superstizioni. La risposta è esaustiva, credo, perché a questo punto io chiamo in campo Hercules per esaminare dal punto di vista metrico, visto che la sua appendice metrica è a dir poco magistrale nel seguire, per le parti diriche, tutti i mutamenti di tono che avvengono, tutti nello sviluppo del canto e attenta com'è la sua appendice a mettere in relazione il mutarsi del metro con il mutarsi della temperie della scena. Allora dico di fronte all'atteggiamento che Euripide ha per la divinità, è possibile vedere nei canti dal punto di vista metrico una ricerca di Euripide, di riflettere nel metro e il suo sentimento religioso anche nel suo sviluppo nell'ambito di una scena o di un canto? E questo mi chiedevo a Marco. Grazie per, anzitutto per le gentilissime parole e per questo interessante, devo dire, anche se posso rubo solo qualche secondo a mia volta perché mi faceva piacere ringraziare anzitutto Gabriele Bursacchini che mi ha dato la possibilità di fare questa appendice metrica e l'ha sentita come un reale complemento di questo testo, quindi devo dire che sono stato molto grato dell'approccio e sempre del sostegno a questa intrapresa. E poi ecco, devo dire, ringrazio appunto, anzitutto appunto, Anica Nicolosi che ci ha presentato, Roberto Rossi e Luciano Lanzi per l'organizzazione di questa bella iniziativa. Dunque, arrivo subito al dunque. Mi pare che Euripide riesca effettivamente da bravo poeta, ma da bravo musicista poi, compositore diremmo, proprio a trasmettere molto bene all'interno della rappresentazione tragica anche questa attenzione proprio per l'aspetto divino nel momento in cui, per esempio, entrano in scena Lissa e Diride. Qui ecco, se da un punto di vista musicale si possono accogliere delle scelte interessanti, mi sembra che sia proprio in quel quarto episodio che l'attenzione debba, insomma, essere dolta. Perché lì, appena Lissa si presenta, si presenta con, o meglio, appena le due divinità si presentano, Lissa e Diride, ecco che molto presto i trimetri tragici lasciano il posto ai tetrametri idrocaici. E questo è una scelta non puramente formale, ma una scelta che noi sappiamo da Aristotele ha un risvolto, perché i tetrametri erano più, diciamo così, ballabili, un ritmo più cantabile e anche un ritmo più concitato per proprio il tempo di esecuzione, che era più più rapido. Quindi non è un caso che quando c'è l'alterco, in qualche modo, tra le due, un confronto animato tra queste due divinità, ecco che subentrano i tetrametri e tetrametri che in qualche modo, appunto, creano un incremento proprio della tensione drammatica. Sarebbe poi, ma questo non lo possiamo sapere, sarebbe bello sapere l'esecuzione, come veniva, perché molto spesso, noi sappiamo, i tetrametri erano eseguiti in paracataloghe, cioè in una sorta di recitativo accompagnato dalla musica. E allora questo è bello pensarlo, guardando soprattutto a come si conclude il discorso di Lissa, che dice per l'appunto che molto presto ella farà danzare maggiormente Eracle e lo ammaglierà con l'aulo nel terrore, il verso 881. Se l'aulo effettivamente accompagnasse quel recitativo, ecco che qui effettivamente la menzione dell'aulo sarebbe non un vago riferimento, ma sarebbe anche qualcosa che veniva esperito dagli spettatori. Ecco, mi fermerei qui, ma veramente si capisce da pochi accenni nel testo e nella metrica la grandezza di un compositore come Euripide, insomma credo anche attraverso proprio questi espedienti. Sì, hai del tutto dato l'idea di quale sia l'abilità che Euripide anche ha come metrico, ma soprattutto come musicista, come tu dicevi appunto. E ritorniamo allora a Gabriele Buzacchini, a cui io volevo porre questo quesito o quantomeno invitarlo a qualche considerazione su questo fatto. Noi leggiamo nella Poetica che Aristotele definisce a un certo punto Euripide traicotatos ton poieton. Ora, al di là della discussione se ton poieton sia genitivo o partitivo o se invece l'espressione equivale a nient'altro che traicotatos poietes, rimane il fatto che la definizione di Aristotele evidenzia l'eccellenza di Euripide dunque come poeta tragico. Ora, è stato già osservato che se noi chiedessimo ma l'Elena di Euripide è una tragedia secondo quello che è la vulgata, secondo la quale si intende la tragedia, l'Elena non apparirebbe tale, ma sarebbe una domanda malposta ad un contemporaneo di Euripide proprio perché la tragedia per un contemporaneo di Euripide è niente altro che un'interpretazione del mito che non necessariamente sfocia in ciò che noi riteniamo tragico, soprattutto sulla base del fatto che riteniamo tragico ciò che non ha una soluzione e ciò che si traduce in una lacerazione che non è più possibile comporre. Non era questa evidentemente l'idea che gli antichi avevano della tragedia ma la mettevano in rapporto con il fatto che si trattava di un mito di cui venivano interpretati i personaggi e le orazioni. Ora noi sappiamo anche che Aristotele mette in rapporto l'idea del tragico con l'Eleos e il Phobos che la teglia deve sapere suscitare e che deve insegnare in qualche modo a dominare allo spettatore. Ecco in questo senso ti pare Gabriele che nell'Erable si possa in qualche modo confermare la definizione o comunque sia l'affermazione di Aristotele che vede in Euripide il tragico. La domanda che pone il professor Lanzi è motivata da ciò che Aristotele dice nel capitolo 13 della Poetica quando lo ricordava Luciano Pocanzi quando Euripide viene definito il più tragico dei poeti. Poche righe più sopra Aristotele osserva che ci sono coloro che preferiscono tragedie a doppio esito. Un esito felice per i personaggi positivi, un esito infelice per quelli negativi e costoro rimproverano ad Euripide il fatto che la maggior parte dei suoi drammi si chiude con un esito infelice. Euripide pur non esente da difetti di composizione o economia appare chiaramente il più tragico dei poeti. Io interpreto questa frase in senso letterale il più tragico dei poeti quindi più tragico anche di Esquilo e di Sofoca. Bisogna dire che la musa di Euripide è molto varia però se facciamo riferimento al nostro Eracle per intendere la ragione di questo giudizio converrà rifarsi alla definizione di tragedia che Aristotele fornisce nel capitolo sesto della sua poetica. È nota questa definizione la tragedia Mimesi di un'azione seria e compiuta eseguita da personaggi che agiscono e non raccontata la quale mediante pietà e paura di Eleus Caifobus ricordava Luciano prima l'Eleus e il Phobos realizza la catarsi da tali passioni. Orbene nell'Era che ecco possiamo dire che questi elementi che Aristotele considera fondamentali per la sua concezione del tragico l'Eleus e il Phobos nel nostro dramma sono vistosamente presenti. Il Phobos è già palpabile all'inizio di fronte alla brutalità minacciosa del tiranno Lico e raggiunge poi doppiamente il culmine prima con la spaventosa apparizione di Iride Elissa sul tetto del palazzo e infine con le manifestazioni sconvolgenti e truci della pazia. E l'Eleus? L'Eleus è già in parte nelle tenere parole dell'eroe nei confronti della sposa e dei figlioli che minacciati si aggrappano a lui e lui prometteva di trainarli come scialuppe attaccate alla nave ammiraglia. Ma si avverte l'Eleus soprattutto nella conclusione della tragedia col protagonista che suscita la compassione del vecchio padre umano anfitrione, la compassione dell'amico tesio e la compassione infine del coro. Quindi Phobos ed Eleus sono vistosamente presenti nell'Erable e il giudizio di Aristotele quindi si giustifica pienamente. Grazie, sì, anche questa risposta mi pare che apra la possibilità di vedere la tragedia, il senso del tragico sia in senso strettamente aristotelico che come tu accennavi al fatto che molte delle tragedie di Euripide si concludono con la rovina del protagonista e quindi come tu hai detto si può pensare che Aristotele nel definire il protagonista dei poeti Euripide pensi a ciò che lui ritiene essere fondamentale della tragedia di appunto di suscitare questo Eleus e questo Phobos. E chiedevo a Marco quindi dal punto di vista metrico c'è la possibilità di osservare come Euripide si cerchi anche nei canti di trasmettere questa sensazione del tragico che il testo e la vicenda mitica suscitano e che la musica e la metrica dunque dovranno altrettanto saper suscitare. Devo dire sì che mi pare che effettivamente ci sia un corrispettivo anche dal punto di vista metrico musicale pensando anzitutto per l'appunto al fatto che il Phobos si materializza proprio sulla scena da quel quarto episodio dove proprio il coro a parlare di Phobos riguardo appunto all'apparizione improvvisa di Lissa e di Iride sul tetto del palazzo e quindi questa grande impressione, questo grande impatto che era visivo e emotivo era un impatto che poi anche doveva trasmettersi in qualche modo esser veicolato attraverso la musica e oltre a quella scena in tetrametri di cui appunto prima si parlava e mi sembra che una cosa interessante sia il fatto che proprio da quel quarto episodio in poi noi non troviamo più nessun canto che abbia risponsione strofica. Tutta la prima parte della tragedia, la parodo e i primi tre stasimi dove c'è la lode di Eracle per l'appunto pronunziata o meglio cantata dal coro, il canto si compone sempre nella forma ordinata appunto delle strofe, delle strofi, mentre da un certo punto in poi esattamente insomma dopo il quarto episodio non c'è più possibilità di un ordinamento strofico. Quindi il canto dà proprio l'idea del caos, del disorientamento in cui per l'appunto la dicenda si è andata, su cui la dicenda impone i personaggi. Quindi questo mi sembra un elemento interessante e così per riprendere poi la definizione aristotelica, direi che se Euripide era il tragicotatos tra i poeti, ecco tra i ritmi musicali noi sappiamo che quello tragicotatos è il docmio e allora non sarà un caso che il docmio che è assente direi o quasi assente nella prima parte della tragedia, nella seconda diventi la colonna sonora e quindi effettivamente questo è un elemento veramente vistoso che ci fa capire come la concitazione per l'appunto la facesse da padrone e venisse proprio portata di fronte sulla scena e all'orecchio del pubblico. Grazie, questa risposta chiarissima è che illumina il rapporto strettissimo che c'è tra il senso del tragico e il modo con cui esso ha espressione attraverso la metrica e la tragedia. Una parte considerevole, mi rivolgo a Gabriele, una parte considerevole del tuo saggio introduttivo riguarda anche la collocazione cronologica di una tragedia per la quale non abbiamo una adattazione certa come invece abbiamo per altre tragedie di Euripide dall'Alcesti in Puglia. Noi sappiamo che di Euripide non possediamo nulla tra le tragedie conservate che riguardino i primi 16 anni della sua attività che si sviluppò a partire da tre anni dopo la presentazione dell'Orestea mentre quella di Sofocle era cominciata dieci anni prima dell'Orestea. Sta di fatto che per quel che riguarda l'Euracle non abbiamo notizie antiche che ci possano in qualche modo aiutare e si è ricorsi e tu ne fai illustri la questione, si è ricorsi sia alla datazione attraverso le eventuali allusioni a fatti storici sia attraverso l'analisi metrica che è resa possibile dal fatto che è ormai un principio consolidato in sostanza che il trimetro giambico ammette nell'Euripide più maturo un numero sempre maggiore di soluzioni. quindi da un lato il testo se alluda o meno a determinati fatti storici dall'altro l'osservazione resa possibile dal numero abbastanza consistente di tragedie se confrontato con le sette tragedie di Sofocle e le serie U7 di Eschilo. Il numero abbastanza elevato dicevo delle tragedie di Ulipide rende possibile quantomeno il rendersi conto di questa progressione della soluzione dei trimetri. Ecco io chiedevo se appunto tu avevi maturato una tua idea un po' più precisa anche se tu come hai detto nella tua introduzione pensi che la datazione più probabile sia quella che va dal 416-415 insomma in questi anni. Grazie Luciano per questa domanda. Le ipotesi formulate dagli studiosi si possono raggruppare sostanzialmente sotto due posizioni. Quella di coloro che pensano ad una cronologia alta, grossomodo tra il 426 e il 423 con una preferenza dominante per il 424, è quella di coloro che si schierano a favore di una datazione bassa successiva quantomeno alla pace di Nietzsche del 421 ma più probabilmente fissabile al 416 o 414. Ecco vorrei dire qualcosa di più preciso. I sostenitori della cronologia alta hanno accampato alcuni argomenti. La difesa dell'arco pronunciata da anfitrione ai versi 188 e seguenti ha fatto pensare un riferimento alla vittoria atenese di Sfacteria del 425 conseguita grazie agli arcieri. Il peana delle fanciulle di Delo ai versi 687 seguenti ha fatto pensare al ripristino del culto di Apollo nell'isola del 425 avanti Cristo a stare a Tucidide. L'ospitalità offerta da Teseo ad Eracle sarebbe una risposta alla fondazione di Eraclea nella regione Etea da parte degli Spartani del 426. Ma come ognuno vede si tratta di motivazioni del tutto ipotetiche e tutt'altro che solide. Nel battibecco tra iride e lissa in tetrametri trocaici si sono voluti cogliere elementi di arcaicità ma verosimilmente abbiamo a che fare con un tratto volutamente arcaizzante, non arcaico. L'elogio di Teseo ed Atene si collocherebbe secondo alcuni in una temperie post periclea ma si tratta di un dato che è riscontrabile anche in tragedie successive alla pace di Nicia, c'è nelle Troiane, c'è nell'Iffigenia tra i Tauri ad esempio. Insomma io ritengo che ben più robuste siano le ragioni adotte dai fautori di una datazione bassa. Vilamovitz, il grandissimo Vilamovitz, osservava che negli anni dal 421 al 415 il pensiero e Euripideo evolve verso un amaro pessimismo evidente nel nostro Eracle. Guido Avezu prende in considerazione anche lui gli anni dal 420 al 416 con una preferenza per il 416 richiamando la compresenza di Eracle e Teseo nel ciclo scultoreo del Tempio di Efesto detto Teseion nel 415 che testimonia la cooptazione del dorico Eracle nel contesto atenese. Poi Vincenzo di Benedetto, Vincenzo di Benedetto nel suo volume Euripide Teatro e Società segue Vilamovitz per l'orientamento generale della cronologia dopo la pace di Nicia ma ha anche acutamente osservato di Benedetto che le tragedie Euripide e posteriori alla pace di Nicia sviluppano una sistematica polemica contro i ceti più ricchi. Nell'Euracle di Benedetto cita la denuncia che il poeta per bocca del coro esterna ai versi 669-672. Ora invece non v'è alcun discrimine da parte degli dèi chiaramente stabilito tra persone da bene o furfanti ma nel suo volgersi un'esistenza quale che sia amplifica soltanto la ricchezza. A questo passo citato da Di Benedetto io aggiungerei anche i versi 774-776 dove ancora il coro sentenzia l'oro e il successo fanno uscire i mortali di senno tirandosi dietro un potere ingiusto e inoltre la battuta finale pronunciata dal protagonista stesso ai versi 1425 seguente. Chi ricchezza o potenza più che amici sinceri vuol possedere è sconsiderato. Quindi questa polemica contro i ceti ricchi torna più volte nel corso del nostro dramma. Poi come ricordava il professor Lanzi un argomento difficilmente controvertibile è quello dell'analisi metrica perché come è noto, lo ricordava appunto il professor Lanzi, nei trimetri dell'ultimo oripide sono statisticamente più frequenti le soluzioni di lunghe in due brevi. Sulla base di questo criterio Bon per esempio indica gli anni a cavallo del 415 cioè il 416 o il 414 per il 416 si pronuncia la del. Voi mi direte ma perché tra il 416 e il 414 e non il 415? E beh perché l'era che non può essere del 415 perché il 415 è un anno di cui conosciamo l'intera tetralogia Alessandro, Palamede, Troiane e Sissifo. Quindi non c'è posto per l'era del 415. Ecco, la conclusione della tragedia con l'abbraccio di amicizia tra Teseo ed Eracle mi induce a preferire la data del 416 prima dell'inizio della rovinosa spedizione in Sicilia. Ma c'è anche un altro argomento che vorrei addurre che è questo. Da indizi interni al dramma è lecito inferire che l'Eracle sia stato composto da un Euripide già vecchio. Le ripetute esecrazioni della vecchiaia ne sono riprova. Ora nel 424 Euripide era sessantenne se collochiamo la sua nascita verso il 484. Nel 416 era quasi settantenne per l'evo antico, un'età più congrua con la stimu della tragedia. Questo 416. Un Euripide che aveva sessantotto anni, quasi settanta. Ecco. Solito tale da fugare ogni possibile dubbio sulle ragioni che ti hanno indotto a ritenere come probabilmente il 416. Ma io chiedevo a Marco qual è il valore euristico che ha effettivamente l'analisi metrica per cercare di fissare la datazione. Tu che hai studiato e studi questo problema. E in qualche modo, dato il numero delle tragedie che possediamo, è possibile ulteriormente precisare una cronologia, stante il fatto che rispetto alle tragedie effettivamente composte, quelle che possediamo sono sempre una percentuale abbastanza bassa. Sì, sì. Questo è, diciamo, un elemento sempre da tenere in considerazione per qualunque tipo di analisi. Ecco, sì, nel caso di Euripide, effettivamente come il professor Bussacchini ricordava, è questo elemento in qualche modo di uno sviluppo progressivo, un elemento che appare piuttosto vistoso. Ecco, la dose invece in Euripide e in Eschino e in Sofocle non ravvisiamo nessuna tendenza in questo senso, al di là poi della scarsezza, della maggior scarsezza di materiale a disposizione. Però ecco, qua non solo abbiamo appunto più materiale, più tragedie, ma quelle che sono databili con sicurezza ti mostrano effettivamente delle percentuali piuttosto significative. Per avere, ecco, proprio dei termini, dei parametri, la prima tragedia che possediamo, che è l'Alcesti, ha un 6% di soluzioni. Quando arriviamo alle baccanti, quindi proprio nell'ultimissima produzione, insomma, la percentuale si attesta al 37%, quindi è proprio un'escursione notevole e in tutto questo è chiaro, ecco, da considerato che come ogni poeta, compositore, Euripide ha conosciuto periodi vari, quindi questa tendenza sarà stata in qualche modo una tendenza, chiaramente non ravvisabile in maniera scientifica in ogni tragedia, ecco, questo è un altro elemento. Un artista si discosta talora per esigenze espressive, se se ne ha bisogno, da quella che magari è una tendenza che acquisisce. qui, forse, ecco, una cosa, diciamo, interessante è il fatto che notavo che la stessa percentuale di soluzioni che noi troviamo nell'Erakle la troviamo nelle Troiane, che sono per l'appunto del 415. Ecco, questo elemento devo dire che effettivamente colpisce, a partire, ed è dalle Troiane che noi abbiamo un incremento cospicuo, in qualche modo, che il picco di questa, di questa, così, parabola inizia veramente a innalzarsi. Ed è interessante, ecco, per esempio l'Elena, che è di tre anni più successiva, è già un 27%, quindi ecco, l'Erakle attestandoci sul 21, effettivamente una data intorno al 415, diciamo, sembrerebbe, ecco, quanto meno plausibile sulla base di questi elementi, poi da unito. Possono essere unite altre considerazioni che, per esempio, Bond fa, come la presenza dei tetrametri tragici e trocaici, che troviamo sempre a partire, nelle tragedie sicuramente databili, dalle Troiane, quindi già due elementi che ci portano verso quello stesso torno di tempo. Ecco, forse come ultimo elemento, qui però non c'è alcuna adattazione a piglio cronologico possibile, però ecco, c'è da notare sicuramente che nell'ultima fase, negli ultimi dieci anni, ecco, della produzione euripidea, troviamo questi degli ammebei, dei appunto canti di risposta tra il coro e uno o più attori, e sono preferibilmente lirici, totalmente lirici. Ecco, mentre nella produzione precedente troviamo con una certa frequenza l'attore che risponde in versi recitati, non lirici. Ecco, qui invece se guardiamo c'è piuttosto una tendenza ad avere ammebei lirici. Quindi ecco, questa serie di fattori ci sposta effettivamente, ci porta verso, credo ecco, a testarci intorno al 415, sembrerebbe in qualche modo un'adattazione verso cui anche questi indizi metrici possono convergere. Risposta più costanziata che non lascia spazio a repliche, quindi io ti ringrazio per questa chiara definizione della questione. Di nuovo il professor Bruzzacchini dovrebbe rispondere a questa mia perplessità. Noi vediamo che di fronte al fenomeno della sofistica, Euripide si mostra totalmente coinvolto nelle dispute che essa aveva promosso. Dispute che non erano ignote ovviamente anche a Sofocle per ovvi motivi di contemporaneità, ma dalle quali di fatto Sofocle non fu coinvolto non solo nella stessa misura che Euripide, ma neppure nelle modificare la sua iniziale e per sempre mantenuta fede nella presenza di una divinità che non viene scalfita dai dubbi che i sofisti avevano ingenerato anche in Euripide. Insomma, Prodico e Protagora hanno lasciato il segno su Euripide. Sofocle che continua a credere nel verificarsi di quegli eventi che la profezia è un'unica e mentre non sappiamo che Euripide segna chiaramente il suo totale rifiuto per la fede in eventi profetici che hanno nell'Erena, ad esempio, mostrato tutta la loro inconsistenza. Ecco, quindi c'è sicuramente una differenza evidente tra Sofocle e Euripide. Se non altro non potremmo mai prestare ad Euripide le parole finali delle Trachini, insomma, niente di tutto questo c'è che non sia Zeus. Questo significa che la fede di Sofocle in ciò che la tradizione gli aveva consegnato continua ad essere inalterata e non toccata dai dubbi sofistici. Ma il rapporto Euripide-Sofocle è nella tragedia di cui stiamo parlando reso abbastanza motivato dal fatto che anche Euripide sente nella figura di Eracle l'attrazione dell'eroe annientato verso il suicidio e questo ovviamente ci porta alla Iace. Ecco, chiedevo in che termini tu collocheresti il rapporto Euripide-Sofocle sempre a partire ovviamente dall'Euripide. Ci sono tratti che avvicinano il teatro di Euripide a quello di Sofocle. Ne dico solo uno, la maledizione che grava su Eracle senza sua colpa richiama quella di Edipo nell'Edipo Re. Però, insomma, sono, penso, i motivi della follia e del suicidio che rappresentano forse il miglior test per mettere a fuoco sostanziali differenze fra i due tragici. Nella Iace la pazzia delirante indotta da Atena nel protagonista dopo l'affronto della mancata concessione delle armi di Achille che sono state assegnate a Odisseo. La pazzia di Aiace si scatena contro il bestiame scambiato per gli atridi e i soldati greci e quando Aiace rientra in sé, ritenendosi esposto al ridicolo e allo scherno, decide di togliersi la vita e attua al suo proposito gettandosi sulla spada. Lo statuto eroico di Aiace, figlio di una cultura di vergogna, lo rendeva incapace di affrontare la riprovazione sociale per le gesta tragicamente ridicole compiute nel delirio della forsennatezza ed era pertanto scontato che egli dovesse optare per l'autodistruzione. Sto citando dalla pagina 23 della nostra introduzione. Completamente diversa è la situazione nell'Eracle di Euripide. La follia di Eracle provocata gli da Lissa per volere di Era è ancora più tragica di quella di Aiace dal momento che prende a bersaglio non animali ma la stessa moglie e i figli del protagonista appena prima salvati dalle minacce di morte da parte del tiranno Lico. Dopo aver riacquistato il senno, Eracle sperimenta un fortissimo impulso verso il suicidio. Ai versi 1146 e seguenti. Beh, a che pro risparmio dunque la mia vita dopo che sono stato l'assassino dei miei amatissimi figlioli? Non è meglio che io vada a gettarmi da una rupe a precipizio o mi conficchi una spada nel fegato per farmi io vindice del sangue della mia prole? O bruci col fuoco questa mia carne per respingere da me l'infamia dell'esistenza che mi attende? Sarà l'amico Teseo a dissuadere Eracle dal suicidio. Eracle verso 1247 dice Morto andrò là dove tornai, sottoterra. Ma Teseo lo rimbecca Hai proferito parole da uomo qualunque. E ancora Teseo, al verso 1254, gli osserva Lellade non potrebbe tollerare che tu muoia per insipienza. Insomma, in questo Eracle schiantato dalla sventura il pubblico avrà percepito una dimensione non più eroica ma decisamente più umana. La scelta ultima sarà quella di non cedere ad una tentazione suicida dettata da pusillanimità. Ma pur immerso nei guai, versi 1347 e seguenti, mi ritrovai a riflettere sul rischio di dovere rispondere di viltà qualora io lasci la luce. Già che chi alle sventure non sa resistere neppure saprebbe far fronte al dardo di un nemico. Continuerò ad affrontare la vita, mi recherò nella città che è tua e infinita gratitudine ti serbo per i tuoi doni. La città di Teseo è Atene, pronta ad accogliere il dorico Eracle, un messaggio che non può non avere implicazioni politiche dopo la pace di Nicia e probabilmente prima della spedizione in Sicilia. Grazie di nuovo per questa precisa risposta e circostanziata. Di nuovo volevo porre sempre in questo, restando il rapporto Euripide e Sofocle. Dal punto di vista metrico Marco, tu hai rilevato spesso nella tua analisi i punti nei quali Euripide innova rispetto a Sofocle, i punti nei quali converge e i punti nei quali diverge. Vorrei che se puoi tu illustrarsi sia i punti di convergenza che quelli ovviamente più rappresentativi di divergenza dal punto di vista metrico, della tessitura metrica della tradizione. Allora direi che sì, un punto di convergenza che mi sembra molto interessante è così, un punto che è all'intersezione tra scelte musicali e scelte drammaturgiche, cioè quel punto proprio, quello snodo tra il terzo stasimo e il quarto episodio in cui ad un certo momento il coro esulta danzando, dandosi ad una gioia, inizia proprio se non sbaglio con indicazioni appunto, ho roi ho roi all'inizio il terzo stasimo e quindi c'è proprio questa indicazione di danza iniziale, c'è poi tutta l'atmosfera che in qualche modo viene così caratterizzata dalle parole, è un'atmosfera di gioia e il ritmo è anche per lo più eolico, quindi sembrerebbe in qualche modo un ritmo che può anche tra le tante cose veicolare bene questa atmosfera di gioia e di felicità perché per l'appunto il tiranno Lico è morto, è stato ucciso da Eracle, tutto sembra andare per il meglio ma ecco che con una tecnica che appare proprio Sofoclea subito dopo avviene invece il rovesciamento appunto della sorte, una metabolà quanto mai improvvisa e ci immaginiamo proprio i coreuti che a un certo punto si bloccano e per l'appunto recitano queste parole che aprono il quarto episodio che sono esclamazioni ea ea e poi ecco una delle prime parole proprio Phobos verso 816, siamo forse tornati allo stesso accesso di terrore vecchi? Che cos'è quella apparizione che vedo sopra il palazzo? Ecco, questo ricorda quei cosiddetti stasimi e porchematici, quelli che ormai siamo abituati per consolidata tradizione a chiamare stasimi e porchematici di Sofocle che in qualche modo appaiono un po' come una sua cifra, tanto più che li utilizza in più di una tragedia e tra le varie però ecco, tra le varie tragedie c'è proprio, ci sono le trachigne ecco, quindi anche questa consonanza è interessante e nelle trachigne è anticipato diciamo questa al secondo stasimo dove per l'appunto il coro festeggia dopo che per l'appunto Dejanira ha messo in atto il suo piano e tutto sembra propendere per il meglio ma subito dopo il canto del coro ecco che la stessa Dejanira ha i suoi ripensamenti e capisce che in realtà quel che ha fatto porterà alla rovina dello sposo e non certo a una riconquista. Questo ecco mi sembra effettivamente un elemento molto interessante. I punti di divergenza ecco credo che proprio li siano in una così maggiore ricchezza che si nota soprattutto nella seconda parte della della tragedia in una maggiore polimetria ecco che che veniamo a trovare e ecco e poi nell'era che le notiamo per esempio quello che la Deila ha ben osservato una mescolanza una miscela tipicamente euripidea per cui i docmi si mescolano ai giambi ma poi anche agli anapesti ai cretici e c'è per l'appunto una miscela che ritroviamo soprattutto in euripide e nell'ultima parte ecco di euripidea quindi ecco questo può essere un elemento che non si può menzionare di distacco. Credo che tu abbia illustrato entrambe i corni e cioè la convergenza e la divergenza in modo inequivocabile. Ci avviamo verso la conclusione e vorrevo porre un'ultima domanda sempre conservando questa alternanza e quindi mi rivolgo di nuovo al professor Brutacchini a cui chiederei insomma di illuminare il tema della umanizzazione dell'eroe che euripide conduce nel finale soprattutto appunto della della sua tragedia. Umanizzazione che va ovviamente d'accordo con il fatto che euripide si avvicina sempre di più ad una dimensione che da quella eroica passa a quella genericamente umana secondo una tendenza che già gli antichi avevano notato per cui si nota in euripide una sorta di precursore anche ovviamente della temperie della commedia nuova della commedia menandrea ma qui rimaniamo invece alla umanizzazione dell'eroe cioè il rapporto che c'è tra la concezione che tu già prima ha illuminato soffoclea dell'eroe per passare invece all'eroe uomo che è tutto consegnato la sua precarietà e soprattutto alla all'avvertenza quanto mai acuta del dolore e della sconfitta. Sì, alla fine della tragedia la figura di Euripide ha totalmente perduto quei connotati da eroe che gli derivavano in primis dall'essere stato generato da Zeus ma anche e soprattutto dall'avere vittoriosamente superato inenarrabili prove e in particolare le famose fatiche. Il primo punto, il fatto di essere stato generato da Zeus è tagliato fuori dal disconoscimento della paternità divina dal momento che Zeus si è disinteressato del figlio il quale dichiara pertanto di considerare suo padre non Zeus ma anfitrione ai versi 1263-1265 Zeus, chiunque sia questo Zeus mi generò nemico ad era poi si rivolge ad anfitrione e aggiunge tu però non ti adontare vecchio giacché te in luogo di Zeus io ritengo mio padre sull'importanza di questo punto ha scritto parole importanti e illuminanti Maria Serena Mirto nella sua edizione Burdell dell'Erape con un'ampia introduzione che si intitola proprio la scelta di Erape, la scelta del padre umano in luogo del padre divino. E quanto alla gloria conquistata con le imprese ampiamente celebrata dal coro nel primo stasimo vale la pena di rilevare che Euripide innovando Euripide amava innovare colloca le celebri fatiche prima della follia assassina non dopo come nel resto della tradizione cosicché l'impatto della strage dei familiari sul pubblico sembra vanificare e annullare ogni precedente grandezza non più eroe, Erape è ridotto a uomo, un uomo distrutto dopo aver perpetrato il più odioso e atroce dei delitti si salva solo il valore dell'amicizia testimoniato sia dalla gratitudine di Teseo per essere stato riportato su dall'Ade proprio da Erape sia dalla sua generosa offerta di ospitare Erape ad Atene. Un messaggio fortemente politico quest'ultimo verosimilmente precedente alla ripresa della guerra con la spedizione in Sicilia come dicevamo prima. La città di Atene accoglie e onora l'ex eroe Dorico che esce di scena trainato dal suo protettore come scialuppa a riborchio della nave maestra torna a quell'immagine che all'inizio era applicata ai figlioli che si aggrappavano alle vesti del padre tornato su dall'Ade là era Erape la nave maestra, qui è Teseo la nave maestra ed è Erape ridotto a scialuppa. Vorrei aggiungere per chiudere una considerazione. Paradossalmente proprio la caduta a precipizio del prestigio dell'eroe e il suo abbassamento al livello di un semplice uomo sono elementi che per noi costituiscono il maggiore fulcro di interesse di questa tragedia. Proprio questo ha probabilmente contribuito a determinare la relativamente scarsa fortuna che il dramma rispetto ad altri ha riscosso nel tempo dall'età ellenistica sino all'età moderna. Come ho scritto nella chiusa del saggio introduttivo bisogna mettere in conto da un lato una certa riluttanza a riproporre l'immagine frustrante dell'eroe demitizzato annichilito dalla sindrome psicotica ridotto ad amaro emblema della precarietà dell'umana fortuna. Insomma da sempre il pubblico preferisce vedere eroi che restino eroi non che precipitino nel baratro. Dall'altro anche una diffusa e pervicace refrattarietà di fronte alla dilacerante forza d'urto di contenuti ideologici decisamente anticonformistici e talora più che mai dissacranti perché come ricordava il professor Lanzi prima sì anche in Sofocle c'è l'uomo schiantato eccetera l'eroe schiantato ma non si mette in discussione l'apparato divino agli uomini resta solo a volte subire con Euripide l'atteggiamento è decisamente più anticonformistico ecco è più dissacrante. Grazie anche per questa tua illuminante risposta. Volevo concludere Marco abbandonando la simmetria che abbiamo conservato finora per cui tu illustravi dal punto di vista metrico lo stesso quesito o qualcosa di analogo a quello opposto al professor Muzacchini. qui stavolta rompiamo nell'antistrofe la risposta della metrico e avevo insomma una richiesta che spero possa interpretare anche le attese di chi ci sta ascoltando e seguendo. Tu hai accennato di nuovo al docmio come il metro di per sé più patetico e più caratteristico nella tessitura delle parti corali successive alla catastrofe dell'eroe però per me il discorso è sempre restato un pochino teorico nel senso che tu mi fai vedere com'è il docmio mi fai vedere l'associazione ma non riesco essendo premetto ignorantissimo di metrica a capire come il docmio possa tradursi in un ritmo che sottolinea il pato se tu potessi se credi recitare metricamente una parte in docmi quindi io te ne sarei grato e spero che possano essere anche gli ascoltatori nostri mi interessa anche questo, se puoi, se credi. certo, no, ben volentieri perché effettivamente è una questione importante quella di calare poi un po' nella realtà anche della nostra percezione la funzione dei ritmi è una cosa che riusciamo a fare davvero in maniera poche volte ecco nel caso del docmio abbiamo la fortuna tutto sommato di avere oltre alle così alle trattazioni metriche anche un antico documento musicale che per l'appunto ci trasmette musica euripidea è un papiro viennese del terzo secondo avanti cristo con alcuni versi dell'oreste sono versi del primo stasimo che è in docmi e quindi questo ci dà la partitura ecco si fa capire come potevano suonare i docmi e lì vediamo che effettivamente quello che troviamo anche nelle fonti, nei trattati di ritmica è rispettato cioè una prima parte è costituita da un piede giambico e quindi un ritmo doppio e poi ecco una seconda parte invece che è in un ritmo, quello del cretico, differente è un ritmo appunto, si dice emiolio in musica cioè un ritmo due a tre e la cosa interessante è questa ecco proprio per questo cambio di ritmo interno alla stessa struttura, alla stessa unità metrica capiamo che il senso stesso del termine docmi è una sequenza storta, sghemba proprio perché al suo interno ha questa frattura ritmica e questo deve essere l'elemento che contribuiva a dare pathos effettivamente ora da un punto di vista poi della lettura adesso cercherò di leggerlo un po' come si fa tradizionalmente e credo che la lettura tradizionale che è arbitraria e questo va sempre premesso a ogni nostra lettura effettivamente accentuativa della metrica classica però ha questo di positivo che accentando i punti in cui si trovano le lunghe in qualche modo ci dà un'idea di frammentazione di rottura all'interno di questo ritmo e quindi un qualcosa si riesce in questo senso a recuperare allora proverò a farlo dunque sceglierei come sequenza il canto infraepisodico verso i 735 seguenti che è quello che per l'appunto commenta con cui il coro commenta l'uccisione di Lico leggo solo la strofe perché l'antistofa è a problemi metrici anche perché effettivamente le mie doti sono in qualche modo ecco non vorrei infliggere 30 versi letti in maniera mi fermo alla strofe cercando di dare questa impressione ritmica metabola H con megasoprostanax palinio postrefei diotonexada qui è interessante che c'è un'irrigolarità ritmica notevole insomma alla fine invece di avere lunga breve lunga abbiamo tre lunghe exada lunga 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 guarda caso proprio dove c'è il nome di Hades e quindi questo credo che sia una cosa che insomma meriti di essere segnalata e poi procede mescolando giambi e cretici i to di ca caite on palirrus potmos e il tes cronomenu dicendo se i stanon ubrei subrizone sa me non asse fen e due trimetri giambici ed ora si riprende carmonai da crion ed osa nec bolas palin e molen apparo supo tedi a freno selpi san pa fein gas anax allogheraio i caita domatone son scopome nei prasseiti sossego felò ecco questo è un tentativo in cui forse ecco quanto meno si sente un po' l'alternarsi di giambi e di docmi il giambo molto più vicino alla lingua parlata e molto più appunto cadenzato e il docmio con questa frammentazione ti ringrazio di questa lettura perché mi è sempre stato insomma il desiderio di sentire come quale fosse la cadenza effettiva con tutto quel che tu hai premesso che naturalmente la nostra lettura accentuativa non dà solo un'idea ed è approssimata ma non possiamo fare diversamente per quel che tu ricordavi a proposito del papiro musicale io ricordo che il mio insegnante di liceo il professor Padua ci insegnava ci leggeva o ci cercava di cantarci Cattolo Furo Mai è questo? sì sì è questo Cattolo Furo Mai Cattolo Furo Mai sì sì esattamente questo io lo ricordo ma lo ricordo solo appunto che si trattava di un coro dell'oreste sì bene io credo che siete stati esaustivi in ogni vostra risposta e soprattutto interessanti e chiari e credo che la sensazione che ho nettamente avuto io mi auguro e credo che sia la stessa che hanno avuto quanti hanno creduto di stare ad ascoltarci e a vedere mi pare che non si poteva chiarire meglio quel che riguarda una tragedia che Gabriele definisce appunto strabiliante e che di cui voi avete dato nel modo che meglio non si potrebbe l'idea viva e soprattutto documentata come tale quindi del tutto da apprezzare da parte di chi ascolta e da ritenersi quasi insomma io credo che se non abbiamo avuto richieste perché è stata tale la vostra che la vostra precisione che non ha lasciato adito a incertezze e dubbi e quindi ringrazio proprio di cuore per quel che avete fatto per la situazione italiana di cultura classica perché secondo me è questa una pagina molto positiva per la non dico celebrazione dico per la diffusione della conoscenza della cultura greca in particolare della tragedia io ringrazio di nuovo gli amici e spero che altrettanto positiva senza dubbio sia l'impressione che ne hanno ricevuto i nostri gentili ascoltatori grazie 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 mille grazie grazie a tutti grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti